ciao a tutte ragazze e ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi continuiamo la costruzione di iron man numero 68 e numero 69 diamo un'occhiata prima al numero 68 vediamo cosa c'è di nuovo ultimatum morte e distruzione la storia di iron man ci sono un po di disegni come abbiamo la squadra ultimatum occhio di falco capitano america iron man valkyrie wasp calabrone e thor molto bello questo disegno quasi tutta la storia abbiamo le pagine dell'assemblaggio esploso o ecco abbiamo nei fumetti thunderbolts la giustizia come fulmine supereroe o criminale i fuggitivi l'avventura continua infine abbiamo l'armatura modello 59 etica robotica e questa è l'ultima pagina andiamo subito nella pagina dei pezzi e prendiamo i pezzi numero 68 si sono questi le andiamo ad aprire sono pochi ma servono tutti abbiamo la piastra dell'anca destra in plastica mettiamo qui poi che abbiamo qua supporto della piastra destra mettiamo qui ed infine l'elemento di supporto destro più le viti due viti op e due vite bp cominciamo ad assemblare allora prendiamo la piastra dell'anca destra la mettiamo in questo modo dopo prendiamo l'elemento di supporto destro e dobbiamo appoggiare dove ci sono questi questi buchi qua qualsiasi modo vedete già tiene ed infine prendiamo una vite bp appoggiamo nel cacciavite magnetico la fessiamo insieme con i pezzi con molta calma molto semplice eseggiamo un altro po' perfetto infine prendiamo il supporto della piasta destra e la mettiamo in questo modo dentro ai perni e la fessiamo con una vite op che questa vite deve attraversare completamente l'elemento di supporto destro e allora vediamo qua il disegno ci dice di metterlo da questo lato si meglio cominciare così con la con i diti con la mano e cominciamo a stringere mannaggia e volata via prendiamo l'altra vita di riserva e facciamo lo stesso stessa cosa sperando che non vuole via ecco qua un po' alla volta un po' alla volta attraversiamo tutto l'elemento e questa è la piastra di protezione dell'anca destra che più avanti verrà unita al resto degli elementi del bacino del nostro modello in una delle prossime uscite ecco qua stringiamo un altro po' perfetto ok mettiamo da parte e prendiamo il numero 69 che più o meno è lo stesso diamo un'occhiata alla rivista abbiamo Stark Resilient ricominciamo da zero qui ci sono altri disegni scritti in inglese nuova armatura nuove nemici vedete poi abbiamo questo che deve essere il nemico la pagina dell'assamblaggio l'esploso nei fumetti abbiamo la crociata dei bambini una guerra non molto segreta ma questo deve essere magneto ragazzi credo che sia ora che conosciate vostro nonno Magneto qua c'è Wolverine di nuovo divisi questo è il bello dei viaggi nel tempo non è mai troppo tardi che razza di madre non riconosce nemmeno i propri figli? Scalette poi abbiamo armatura Vespa un modello in grande stile assomiglia a una Vespa ah e questa è la Vespa che si trasforma in Iron Man guardate qua c'è il serbatoio qua c'è il serbatoio i fari bella e qua abbiamo l'ultima pagina Invincibile Arome volume 1 numero 25 ok andiamo nella pagina dei componenti e montiamo questi pezzi allora abbiamo la piastra dell'anca sinistra sempre in plastica la mettiamo qui poi abbiamo l'elemento di supporto sinistro mettiamo qui ed infine il supporto della piastra sinistra contrassegnato con la L ok più le viti OP e BP cominciamo con la vite BP allora appoggiamo la piastra dell'anca sinistra così e montiamo l'elemento di supporto sinistro in questo modo che è sempre uguale sì sì e mettiamo una vite OP BP sempre con il nostro cacciavite magnetico che è una bellezza stringiamo stringiamo fin quando non è abbastanza duro un altro pochettino perfetto poi prendiamo una vite OP la prepariamo e mettiamo il nostro supporto della piastra in questo modo appoggiandolo e dell'altro lato mettiamo la vite cominciamo a girare fin quando non attraversiamo tutto il pezzo ok vediamo se è abbastanza duro sì direi un altro po' perfetto direi che abbiamo finito il montaggio di questi due numeri semplici ma essenziali il numero 69 e numero 68 sono aspettivamente così ok ok per questa uscita è tutto per questo video è tutto grazie per la visione a presto ciao 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 ciao